Cari cittadini, presto sarete chiamati alle urne per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale della vostra città. Si vota domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15 nel seggio che è indicato sulla vostra scheda elettorale. Bisogna portare il documento d'identità e la tessera elettorale. Se non ce l'avete o non la trovate più potete richiederla all'ufficio elettorale del comune nel quale siete residenti. Se avete scelto di votare per noi, votare è semplice. Sulla scheda azzurra per il rinnovo del consiglio comunale fate una croce sul simbolo di Fratelli d'Italia. Voterete così anche per il candidato sindaco che è collegato alla lista. Bastano 5 minuti per decidere il futuro della vostra città per i prossimi 5 anni. Noi siamo l'Italia del riscatto.